Grazie a tutti Buongiorno 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 Grazie a tutti. 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 ... 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 solucionano dei nostri problemi e ci sono solo per aiutare a sviluppare un paese. Però se non è il caso, il sviluppo sociale di un paese è molto importante. Quindi, mi chiedo anche che è importante per noi realizzare i nostri mesi, con qualsiasi che mi chiede per aiutare il suo mesi come persona e così si può aiutare una comunità e un paese. Se noi cominciamo a pensare di questo tema, poi non è solo un'eserrollo sociale, ma anche un'eserrollo di mentalità, mentre che noi ci sono arrivati a un'eserrollo. E parte è mi chiede a treze, in quanto di un'eserrollo sociale. Perdi mi chiede, mi chiede, ma tanto di trabona, che sta tomano il loro lavoro qui nel S.O.V. Quindi mi chiede, ma ancora di trabona, con quello che è importante. E noi stiamo arrivando una scattatura banc. E su me mette, per me, a un fine anno qui, abbiamo un banco di scattatura. e se è unificato con il governo di Corsol, il ministro del gabinete ACHES lo sovra per cada una persona della comunità qui nel momento che è da busca di lavoro e sa onde è che arriva il cammino di Bota Ranya il cammino di nostra strancia è il buscatore di lavoro e il dono di lavoro junto e se è qui per Corsol non va dire qualcosa di nuovo ma sembra Bota mira ora qui toglie una situazione che sempre solamente può arrivare a un livello però non va avanti nel momento un banco di faccatura può portare a Bota G6 può fare un altro esercizio in maniera di guia a una persona e che arriva al lavoro solamente la faccatura non è disponibile però può avere il guia come può arrivare a Bota e ho messo un banco di faccatura che ha più partecipazione nel mercato laborale però può avere più di mobilizzazione o più effettivamente e seguite la presidenza a Bota G6 a Bota G6 e ho messo un banco di faccatura e ho messo un banco di faccatura che si è stato un banco di faccatura e ho messo un banco di faccatura la versione ma scucia provence profane serte in Provence ma scucia Jean-Marie Bota Mera cotta un lìa non stai ribando dell'egobernazione attuale. Un'altra parola che il ministro francese piace molto più, è usare continuamente la sinergia. Questa sinergia è un'altra sinergia che ogni ministro tra i suoi mesi, ogni bloc, e è un'altra, ed è un'altra. Se non devono fare fare loro, quindi non lo vedono. No, per lo sforzare l'ego, aiutare gli altri, ci sono altri uomini, per lo sforzare ancora una. Quindi di essere diversi, tubiare gli uomini. qui abbiamo bisogno di implementare e applicare in maniera per santa tendere questa visione che tutti noi visionano una meta specifica per noi per cubrire tutta l'area della nostra comunità tutta la gente che vive della nostra comunità ma si in a cada un rai e senti e guardo tocca caminata da dove è manejo che il governo è arrivato mi stava da d'encaia anteriore a tardi matò con un signore con un smile massa grande e mi dice quando vai, quando vai, hai, posso anche il hobby tra bo, no? mi dice, mhm, e di perro, il hobby è buono ma sopra per fin, non sta mirando a costa da cana, non sta in una buona direzione si che è assina ma sentimi hobby orgoglioso ma sentimi hobby buono ma so di verità ma sentimi bene ma sentimi e gobernazion e planan staggiano forma e staggiano 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 un'gobernazion completo e staggiano e staggiano staggiano sul lugar e comunità non staggiano manera antes perdi pa sobra bonza un da bobai bonza che boasi bono bobai non ti mandavo jack paia no avori qui conscientemente sta trajando riva e servizionan pa e servizionan vai tra optimal manera ministra francesca atres dilante avori e te vissi con avori qui non sta trajando arriva e banco non di vacatura un cosco de facto mas a tempo non si mesquera tava tini mi te acorre del tempo campagna tava tini algún partida comincia a assim mas a mas a droga vai sinta ah che hai la gana non scrivi nombr pero qui sa lì fuori e si qui non è assustado non sa però avori qui la cosa è buon pensare e bastante miracolamente aiude a altro da unico manera pa nos logra e se man passa ma comisa explica di parte di enseñanza ma sobretutto di non turza con enseñanza tambi a dai spats un dado momento caminda nos sa con nos yunan no ta ha yando e enseñanza viva un forma na un manera responsable manera se ta dol vicom e partim vicom sempre nos enseñanza nos geren a nos much nan tabra ca il cortico tapas sobre nos enseñanza sempre tamara na e sistema e enseñanza olandez que men lo cual non ha si na ulanda e forma na se bien cambio de enseñanza nos con conos ha si nos cuenta nos tambi ta veta tinku adaptar na sistema olandez sia nos eta cuadra sia eta eta nos muche nan ta pas of no no te importa bo tinku apli che pa sobra e muche nan nan futuro ta pa vai es nan cota sigi bai ento tinku vai ulanda pa sigi nan estudio sobra nota te otra posibilidada es e tambi abor aqui nos abin kambian gran un nota un secreto ku helmin magno wils su soño tabata pa nos yunan que den region den et ambiente de carribe latino kuta mas cerca dinos mas llegan a nos menos leo pan hasi nan estudio nan ya ku mas resultado tamme nos ta hayan no bu raport nan dinos joven nan ku la ba estudia de region a pas y manera posan por leo se de medio nan e a un grupo o pigrali a aplicar pa nan tam ba estudia de region nos much nan no din gana de ba ulanda mas paso ulanda nota atractivo dos non sta tembe de non studiante nan na holanda ku e euro ta kaba ku nan eta ro picaron es estudio ta pisar di com pa motivo ku e estudio nan nota nan ta paz din es nan ku nost ta hain aqui nan Quanto via da un'una vò da papia olandese? E la paracchietto, e dicono a me, vostè non via mi paracchietto, però non sa papi olandese. Passo da cucchietto e mi dico papi olandese. E n'an'a rontò, dimi, tu ti accompagnè papi mento, da papi mento mi da papia. E altro idioma straerò che mi sa papi, ma tanto, è inglese che il spagnolo. Sobbi, tòpa, ribano, isla, ma tanto, che non ha parlato inglese o spagnolo, di idioma straerò. E olandese, e macamana, non sa notata, 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 che dìva t'ingopi, però la gana non sa franco, non sa notata, non sa notata, non sa notata, non sa notata. Olanda, non sa notata, è vero, è realistico, avore qui, e puntata, non sa notata, che c'è la ventaja con un paese, con un paese, con un paese, con un lazo con un paese, che non sa notata, che non sa notata, solo per 4-5-6 anni passate, 4-6 anni passate, non avvicini a direzione a qui, non avvicini a noi, non avvicini a conquistare, C'è ancora una oposizione di maggiori di con, ma sono di niente che si può cambiare. E il holandese è molto non si va a desarrollare la scuola, il suo studio. E' un'altra percezione di con, ma la realtà è anche questa mostra che il holandese non è molto niente che forne il sistema per motivo del idioma, la nostra franco, la nostra realistica. A implementare, diez anni passati, nel 2003, il idioma di istruzione di scuola deve essere un papeamento. A implementare, dopo 4 anni, a cambiare, volete back nel holandese, e poi è continuazione, come spera continuare anche nel papeamento di un giorno per l'altro a decidere con il ciclo 3. Non è il papeamento, ma è il holandese, con il hapone. Non avevano un pape, non avevano un pape, non avevano un pape, avevano un pape, avevano un pape. Ma avevano, ma spiega, è un problema. Ma pensi, non è che, non c'è nessuna sicurezza che il idioma, che il papeamento non è continuare con noi. Ma è che c'è una certa regla. mentre avevano un è in cianza, a volte vira, pavimento, non si non è mai buono, non, un te sei, è motivo, è motivo da, non è importante implementare in maniera corretta, non è come implementare, incorretto, non può resultare, ora, buon po' visto, è assunto, come va a fare, è malo, non, è in maniera, come va a introduzire, è rovisto, che menzionà, non è in cianza, ora è qui, popopisa, non è prima stia, di atención, hopi, atención, e non sta, hopi, consciente, riva e si, e non sta trajando, riva, manejonan, pavano implementare, come non sta, van continuare con noi, non sticco, toma decisionan, come non sta, van continuare con noi, in cianza, non, non por l'altro, non siunan, si, mas, totobià, hope di girare, che non sto, non, si, con mille, perché non siunan, che ci sono i nostri amici, non ci sono un po' di più. Ci sono un po' di più, ci sono un po' di più, per fare una cosa fija, per fare una posizione fija, per fare una direzione che ci sono. Quindi, se ci interessa il pobo che mi sia consente, per fare un po' di più, per ogni decisione che noi abbiamo, ma che cosa favorecevano, che cosa mi piace per il nostro popolo, per il nostro giunano. Non ci sono molto, mi ti voglio explica, il popimento è il nostro idioma materno. E' quello che ci siunano, ci si è ora che nasce. E' quello che non ti teme. E' quello che non ti comunica con noi. Questo è il idioma che non ti attende, è il primo giudice che non ti attende. E' quello che si sta a determinare la emozione, la pensamento. Per il mio pensamento, io voglio sviluppare un idioma. Voi pensare un idioma che pensare. Ora, perché pensare qualcosa, pensare. Perché pensare un idioma che pensare. perché pensare un택o, che pensare un discorso, ho iniziato senza l'investigazione sul mondo. E non appena constata che esi un buon Something. Che è un luogo, per il più risultato. Il buono risultato di questo studio è per obbligare passi a leggere e a studiare del suo idioma materno e ora da domina il suo idioma materno oral e per scritto e per facilmente vai over riba un di 2 o un di 3 idioma straniero conosci messe di idioma straniero? un' da un' pregunta un' constataion naturalmente nel mondo che non vive qui non è natural non si non queda limitato nel nostro idioma propriamente solo per mi che puntravo con l'eo non si llega se non queda para l'arriba è holandese solo è holanda e è fronteira holandese passi a fare di holanda in un altro paese non è proprio holandese inglese ma non si una è un idioma familiar che mi chiamano con familiar è la zona in un'orea che mi chiamano con che mi chiamano con e la maggioria che mi chiamano con inglese e mi chiamano con comprendere inglese comprendere io nasco io ami a esperienza che mi chiamano con con solido la nostra donazione è base, solido, per non possiamo studiare, e non è questo, ma è il plazzo del studiamento. La nostra donazione è molto più importante, ma la nostra donazione è molto più importante, ma non è il problema, ma la nostra donazione è molto complica, ma la nostra donazione è una grande domanda, per la nostra comunità, per la nostra comunità, per la nostra educazione, per la nostra pilara più importante per il desarrollo di una comunità completa e per la maniera, per la nostra comunità, per il culto, per discutere, comunicare a un livello con l'altro. La nostra continua, la prossima, la prossima, la prossima, la prossima, la prossima, Ok, giornata, un nuovo sogenannte,bagasmuch영, per la nostra prima ministra, il Signore Doct'. Andr Junior, Ivar Asgers Viva Asgers Viva Asgers Buonanotte, buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte, tu non sei non presente, buonanotte tambi, tu non sei non che ti escuta e miro. Buonanotte, baby, ma bin pa papya largo. Pa sotto ho beco ai papya ti ahüe. Noi taman un saludo pa sher vicevlio e abogado chief, whoto esco xando q tape sende e grava lo qual meto ind Operations. La mia amicumisa con un maner che si chiama Almin Magno Willis, di felice memoria. La mia amicumisa con un maner che si chiama Almin Magno Willis, di felice memoria. La mia amicumisa con un maner che si chiama Almin Magno Willis, di felice memoria. La mia amicumisa con un maner che si chiama Almin Magno Willis, di felice memoria. La mia amicumisa con un maner che si chiama Almin Magno Willis, di felice memoria. La mia amicumisa con un maner che si chiama Almin Magno Willis, di felice memoria. La mia amicumisa con un maner che si chiama Almin Magno Willis, di felice memoria. La mia amicumisa con un maner che si chiama Almin Magno Willis, di felice memoria. Almin Magno Willis, di felice memoria. La mia amicumisa con un maner che si chiama Almin Magno Willis, di felice memoria. Almin Magno Willis, di felice memoria. Almin Magno Willis, di felice memoria. La mia amicumisa con un maner che si chiama Almin Magno Willis, di felice memoria. una amicumisa con un maner che si chiama Almin Magno Willis, di felice memoria. non c'è un'impressione non mi chiamé Carlos Monk a Mary Goto Dei, Harris Potter e otro non non c'è un'impressione ma ne tayera se aftea come se tra anto an tayera Bosman a entregar su'iniciativa di lei e per dat manera non sa da otro se aftei di masco tres aña activo e colegio di supervisión financiero e lei iniciativa di lei di Bosman pa restringi non c'è n'è n'è n'ang carlos Monk e Charles Potter o so Ashes na aña dos mil jesun i dos mil jesdos notabas da den gobiar Ashes tava da miembro di coalizion mi tava da den e coalizion mi tava da miembro presidente di parlamento mi notabas da mandatario Ministro. Ora vota den Gobiarno, vota miembro di Gobiarno, vota Ministro, vota den Coalizion, vota den Parlamento, ora vota sostene un Gobiarno, che dia buona basta ando bo manda non caz, vota quita sostene di Gobiarno. Evo Carlos Monk ahuramenta, manera Elmi Magno Wilse Bisa, despues di ora praticamente turso verano, pe Bira Minester, el ahuramenta na Juni 2001. Gemen, mangte ting masko aia Minester, ora posman na Julei, treste Julei 2012, apresenta iniciativa di lei per restringir nos endenan pa Trenta-Holanda. Evo, vos accorda cu Carlos Monk a Sali, papia algo, riba e iniciativa di lei di Bosman, na Julei 2012? Dia cu Gheritschotte, e tempo ei, com o Prome-Minister, abaituma e raport Rose Müller na Rudia, na Holanda, vosso attende Carlos Monk, utabata colega Minester, di Gheritschotte e tempo ei, di Gheritschotte e tempo ei, com o Prome-Minister, ex-Prome-Minister Gheritschotte, na Rudia abaituma anweizing e instruction financero, caminando a Helmi Magno-Wilze dice Bonkla, mi obo no vai, posso tapak nan tapak bocune, dito e dito e dito e dito e Carlos Monk, com o Minester, avisa algo, e la patria di cobarde, di humillacion, e la queda ketu e dito e viajamento vai vim pa Colombia datin, cum ale tim, e seite verdad, anto ave, non sabim pa Strip, diferente gente, figura, fariseo din he comunidade aqui, ave noste papia nan no, sede, pueblo soberano, sede, soberano sede, e ave noste un bim pa Korehi, ave noste bim pa Strip, alcun figura. Ora, ti è figura della comunità qui, opositor di la coalizione qui, che ti è una reazione di mia persona, arriva ad un'expressione così da un'expressione del primo ministro di Holanda. Il cammino di imprensare e lo ha declarato, come non ho ascoltato, e lo ha declarato, asunto di che ti è instinto che si spreche il governo di Corso, lo quale non è caso, e conversazioni e riunioni a Biden con la priorità, con l'espressione e la base di ugualdad con forma statuta. Ami sicuro, non è ricorda, non è un'espressione, che ora fa' la mia persona rispetto, ma è un'espressione, ma è di un'espressione di un'espressione. Rapport Rosa Müller, a me pisa nang mita papai laga bosan. E conjuntamente, futuro fraksion di coalizione tempey, a lantafor di mesa, fraksionang di oposizione. Algo nunca visto. Ta un robot, Dennis Jackson tempey, a questa cinta, passei la in ordine o telefono, per quede cinta. Sobra tur representante di Pueblo di Corzol presente abandona la mesa. Que men, nel momento, o falta Pueblo di Corzol respeto na mesa, no bla bla bla, pa bo electorado. Na mesa. E'o rei, non sa, da quem, da Ivar Ashes, ima probe, non sa probe, buntu kuhelmi mafno-wills, non sa abandonar, mesa, respaldar, pa fraksionang di coalizion, e dos fraksion di oposizione, e tempo ei, na e-conferencha interparlamentario, na Sint-Martin, na Januari 2012. e non sa cambia, non sa imponere, respet, ora mi vai in Holanda, ora mi vai China, Japong, Trinidad, un deputato, se non ten respect na mesa, e te ofende Pueblo, a mi te va, vai. Abo, si, e pro me, ministra, di Holanda, visa, passo, la mi explica, e' verdad, denghi ranion bilateral, ni assunto di Bosman, ni assunto di independenso submesa, manera mi indica, cordialidade, respeto, contenido, durante a reunión con nos, cueta 5, o consejo de ministra completo, ora a reunión, e'a acera, atira un cosco entre, tu látens regla, instata na treferra corte. Non sa reaccionar, poso a reunión acera acaba. Un cosci nos explique, prepara, e' pregunta, pa' sombra, por di prensa, sigurlo bien, un' pregunta, denghi direccion ei. Ando pa' boza, nos lo brinca, cualque paso denghi direccion ei, tenna nasjonan uni. Nos lo aplica, lei internacional, e nos nota ha si huega. Ando tapesei, el avisa den, conferenche di prensa, ora la contesta, e' pregunta, mes ora, dar es no, it's war una total, over on in say. en tanto un punto, con nos da diferenciar, di opinión, totalmente. E lo cual, ma'cima confirmar, e' si, pa' prensa, i' pueblo de Corzou, avisa correctamente, nos nota di acuerdo, et al, cu e tipo di pensamento ei. e, e despues, nos ha aclarar, durante, e conferenche di prensa, di, chau eps, avori, chau eps ultimo, da mine, da mine nos explica, con os te vai atender, e' assunto aqui. Dentur tranquilidad, pa' sombra nos avisa, si botin' 10 punto, anto, 9 10 punto, votin' un acuerdo, ribadje, cu a, vota convencí, cu t'apositivo, pa' bo' pueblo, un punto, votin' un desacuerdo, fundamental, ribadje, e ori, non ti sentido, pa' base, jese i bobarituri, 10 punto, anto, in po' imesa, i botta, evitá, adelanto, i progresso, pa' bo' pueblo, lo qual, votin' de asita, tra arriva, e 9 nan, anto, attendé, e sum, putin' desacuerdo, ribadje, anto, nos explica, cu t'ha trata, aqui, di un lei di iniziativa, di un parlamentario, la corso utameta, d'indiferente parlamentario, cua presentá, iniziativa di lei, ribadje, tipo di tópico, pero, cu nunca, no pasa, parlamento, pa' sombra, sé, e no, siga, si sutra, bo', ofeno, por a convencí, un maioria di parlamento, pa' respaldá, su iniziativa di lei, anto, e iniziativa di lei, di Bosman, t'incu cana, un caminda, ahinda, na momento, cu tuei, da Cámara, un maioria di tuei, da Cámara, aproba a lei, e t'incu bai, ersta Cámara, anto, e o rei, gobiarno, gobiarno, olandez, lo por, publica, e lei, pero, no tin garantía, cu e lei, lo pasa, sia, sia, ersta, sia, tueido, av, ersta Cámara, che me importa, no sta preoccupa, a mi, sigurpo, no, pero, porta a ti, sierto, ene, anta, prekupa, a mi, abisebun, clami, nota, drenta, den, pánico, mi nota, vai, crea, ningun, brollo, mi, goberna, e mi, si, goberna, la, bienestar, di, pobo, e camina, tim, beneficio, mutuo, cu, cualquier, pobo, e, gobiarno, na, mundo, mi, te, clara, patra, junto, pa, nos, logra, progreso, bienestar, y, adelanto, pa, nos, pobo, epota, holandesa, chinés, japonés, venezolano, colombiano, nos, tatra, putur, den, den, tranquilidad, i, pa, prosperidad, di, nos, pobo, anto, te, te, direcció, e, nos, vai, nos, no, te, vai, laga, nos, guardo, desvia, pa, algún, opositor, uri, barrudía, e, tempo, ei, na, baituma, rousa, muller, su, raport, e, instruccion, e, tempe, un, saca, carta, pidiniwende, nada, e, tempe, e, curi, ba, esconde, e, si, da, e, verdad, anto, noste, awe, pastret, e, figura, nang, aki, pa, sombra, awra, ki, nos, ta, undie, mandatario, nang, den, e, gobiarno, kemen, awra, ki, si, i, var, as, sa, den, gobiarno, na, dos, mil, tis, dos, e, dos, mil, tis, sum, mitaba, da, de, parlamento, ta, sostene, un, coalizion, min, no, tabata, den, gobiarno, kemen, ora, ma, visa, nan, e, tempo, e, tabata, den, gobiarno, xerrat, xerrat, carlos, mont, tabata, minestere, tempo, e, sin, ta, den, gobiarno, anto, si, pueblo, soberano, tabata, sostene, e, gobiarno, e, pero, no, a, todo, costo, e, dia, cus, hat, abaituma, raport, roussel, me, lernar, rudia, kika, passa, den, parlamento, aspas, raport, e, foi, otro, dan, fina, pueblo, soberano, comenta, mito, bisseco, honor, cosa, te sei, de verdad, di un momento, pueblo, soberano, no, abana, rudia, nos, hace, nos, traball, nos, pasa, motionan, di, jesun, di, octobre, dos, mil, jesun, a, yo, raport, roussel, mule, y, nos, avisa, pasó, si, cual, mandatario, holandés, visse, a, min, na, mesa, tener, man, cu, un, y, amada, camina, botapidi, independencia, bo, por, ha, ye, viste, mi, amigo, bo, falta, gopi, conocemento, wils, la, visse, otro, cos, a, mi, te, queda, diplomático, bo, falta, gopi, conocemento, abo, no ti, nada, di, duna, pa, so, cos, da, dibo, dia, pueblo, di, corzol, decidi, di, di, roferrandom, democraticamente, que, momento, a, llegar, ruman, direcito, pa, new york, nacionan, uni, e, nan, nost, bai, que, men, asunto, di, bayama, ken, bay, pidi, ken, nacionan, uni, que, men, preco, pa, asine, lo, ma, contestar, y, ora, bo, pa, di, independencia, manera, helmi, magno, wheels, sem, para, explique, sempre, para, po, independencia, dun, forma, responsable, y, bon, planificar, non, independencia, jau, e, pamayana, anto, cualque, dirección, ruta, pa, independencia, da, comisar, pu, gobernación, na, dreti, e, se, i, no, sabísa, tur, tempo, anto, lo, cual, ta, tin, baudis, fata, non, po, queda, calificar, como, gobernación, na, dreti, wheels, la, visa, cos, a, mi, ta, queda, diplomático, que, men, e, gobiarno, aquí, ta, goberna, na, dreti, camina, no, ti, espacio, pa, corrupción, ilegalidad, en todo caso, no, de nos, cartera, la, que, nos, viser, bon, clara, y, que, caso, so, de, lo, cual, as, so, de, ta, ora, nos, auguramente, dia, sete, di, juni, di, mes, no, sahasi, et, bo, and, timbia, ora, bo, asi, cierto, tra, bo, no, ti, no, di, di, bai, bisa, kiko, botas, no, sa, si, nos, tra, bo, no, sa, pide, nos, consejo, nan, jurídico, nos, sa, analizá, un, veredicto, di, west, e, ora, e, momento, tabata, oportuno, nos, as, toma, nos, decisión, que, conforme, lei, di, paiz, nos, sin, e, autoridad, completo, como, minestra, di, asunto, na, general, pa, tome, ando, TCI, asoso de, lo, cual, asoso de, ta, co, pa, años, de, paiz, aki, ti, un, vendemento, di, nombar, via, di, SMS, sin, co, tin, permits, dun, pa, es, aqui, pues, i, legal, dan, dos, di, da, res, fa, a, bise, fu, un, a, i, fa, sa, per, e, no, actua, no, cita, actua, e, si, ta, diferenicia, no, sunt, te, pa, protejani, un, amigo, ni, un, famia, no, ste, pa, sorru, pa, pu, di, corso, su, bienestar, no, ste, pa, sorru, pa, cupo, di, tra, pa, pa, nambai, perdi, pa, motivo, ilegalidad, nost, te, pa, sorru, pe, menornan, di, adat, no, pa, nan, cu, telefon, di, ken, cuta, e, comisa, cumpra, nombra, via, di, sms, e, nostri, pa, sorru, paga, lo, que, debes, si, bo, deve, impuesto, bota, pagu, anto, lo, qual, aso, sedeta, cu, ora, un, empresario, un, otro, riferu, a, tu, manota, cu, tim, un, provedor, un, riferu, te, ben, un, 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 di, sms, e, di, oh, la, mi, pide un, permite, e, la, pide un, su, permite, e, la, un, carta, di, ex, ministra, presiden, gara, schato, capi, e, non, po, hai, permite, pa, so, se, un, dita, ilegal, dro, entam, di, ah, ora, potende, un, promen, ministra, preto, riba, blanco, et, pisa, tal, costa, ilegal, però, dè, dè, nota, actua, o, ta, puntra, bomes, di, com, ando, te sei, aparentemente, empresario, riferro, a, que, puntra, sumers, ande, di, no, sta, viva, de un, estado, di, derecho, e, la, vai, corte, ando, dia, quattro, di, marzo, dos, mil, gestres, e, veredicto, tade, vese, a, decidir, e, vese, a, vese, atende, se, bo, ning, a, un, permit, a, i, banda, passo, bota, bise, asunto, e, ilegal, pero, bota, tolera, un, otro, ha, si, essa, vende, num, via, di, sms, e, lo, qual, bomen, bise, i, legal, e, cose, no, por, e, cose, nota, gobernazion, dretti, da, mal, gobernazion, e, cose, ita, anto, o, essa, bisa, mi, amigo, botingo, tumo, un, desision, no, anto, tatin, un, promen, minister, cinta, o, el, vira, líder, di, un, partido, anto, manera, amas, opikos, nato, no, so, so, de, e, ora, nos, adrenta, dia, sete, de, juni, dia, nos, oramenta, sei, se, man, pasa, nos, tra, nos, tra, bo, e, se, man, aqui, nos, toma, e, unico, decision, correcto, esta, usi, algo, da, ilegal, da, pare, botinco, wak, e, aspecto, nan, jurídico, botinco, tene, cuenta, o, consejo, nan, jurídico, o, jurisprudencia, e, lo, cual, veredicto, nan, di, pasado, ta, visa, e, se, ta, jurisprudencia, anta, base, jese, aconsejanos, pacana, seguente, caminda, avisa, nos, e, te, se, de, decisión, con, nos, toma, tambe, avisa, nos, tende, bota, anuncié, publicamente, bota, saca, aviso, nan, den, coran, bota, indica, bon, clara, bota, vai, atender, o, incumplimento, co, lei, tabai, un, carta, pa, es, nan, cuta, den, e, legalidad, aki, ipasso, otro, nan, atolera, e, ilegalidad, aki, pa, ayos, bom, po, bisa, jau, e, pamayambo, da, pare, an, 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 sejami, manda, visan, an, tres luna, an, 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 tres luna, pa, para, e, actividad, ilegal, aki, pa, so, nos, te, clapa, actua, conforme, lei, e, te, se, so, de, te, se, ita, lo, te, vai, so, de, e, no, ti, necesidad, pa, tan, pa, kita nada, por, di, n, ende, no, sabim, simplemente, pa, cava, co, corruxion, den, e, pa, aki, pa, atender, e, desigualdad, social, pa, gobernar, na, dretchi, pa, soro, co, enseñanza, da, queda, liber, de, pa, is, aki, e, pa, facilitar, un, inversión, social, nunca, pisto, den, os, histori, e, se, te, lucha, anto, or, bo, asi, ese, soberanía, un, cuestion, di, tempo, ese, ta, el, lucha, anto, si, el, lucha, aki, tin, hende, nan, nervioso, nan, asunto, el, lucha, ki, tu, lucha, sagrado, pa, nos, pueblo, y, menazan, adrenta, menazan, adrenta, ata, nos, para, aki, na, soberano, seti, es, un, cuaman, menaza, entre, otro, Luigi, dos, santos, román, román, homber, di, robi, dos, santos, di, robis, loteri, cu, tabende, number, via, di, sms, mi, amigo, nan, a mi, no, yama, carlos, mon, mi, no, abira, minester, pa, iba, ningun, malet, in, colombia, mi, no, abira, minester, pa, atende, edificio, di, hur, pa, román, mi, no, abing, pa, birani, un, chabelito, di, sant, tomás, santa, corda, sant, tomás, colegio, un, hur, di, 125,000, paluna, ante, otro, chabelito, hurista, cua, sali, abogado, otro, di, sant, tomás, sant, tomás, colegio, si, nota, pa, helmin, magno, wills, nota, unti, e, chanchullo, nan, mas, grandi, den, istoria, nos, meses, agradecido, na, helmin, magno, wills, cua, para, e, proyecto, aki, e, chanchullo, aki, na, mal, ordo, ando, tapesei, Carlos Monk, no, subilista, tapesei, wills, ofrecer, number, bint, ribalista, pa, pa, e, pisa, nota, e, se, ito, e, verdad, pasou, ora, nos, mira, cubo, ta, ame, afkade, en, poe, lo, soberano, botei, po, beneficia, un, famia, tinko, atende, cubo, ando, bo, po, rabia, pero, cobardia, ta, ora, bo, bin, para, aki, predica, un, cos, i, hazi, otro, ora, bo, bin, explica, vistina, corra, cuenti, jose, marti, cu, chafes, cu, ken, cu, fa, o, se, ta, che, era, miembro, fa, to, non, te, guarda, otro, ridiculez, 10 de dezembro, 2000, jesun, ex, ministro, monta, salipisa, e, eta, un, terrorista, un, guerriero, e, eta, miembro, di, grupo, comundialmente, aguardo, di, comun, terrorista, di, dia, 20 de dezembro, 2000, jesun, ora, presion, abin, ribajé, papi, di, despensa, di, enda, pidi, despensa, dia, binti, un, di, dezembro, 2000, jesun, e, la, salipi, despensa, e, sei, da, carlos, mom, bisun, cos, ha, si, otro, ni, enseianza, liber, e, non, por, regla, ta, helmin, mas, no, il, si, feliz, memoria, apone, piabou, cu, awe, nos, robenan, di, enseianza, liber, e, tim, jesquatr, miion, reserva, e, aproba, dor, di, gobiarmo, aqui, pa, enseianza, liber, por, continuar, pe, a, escolar, dos, mil, gestres, dos, mil, desquatr, seis, man, e, son, cabira, líder, no, por, logre, den, cinco, luna, monk, no, por, logre, den, dintipico, luna, so, mesera, biah, kumale, ting, anto, otro, nan, pa, nos, queda, humilde, si, por, logre, de, menos, cuseis, siman, ke, men, as, net, ti, opikos, mas, ora, bo, bin, papi, e, nan, no, di, patriota, peru, ni, un, evento, e, evento, histórico, mas, importante, pute, lucha, libertad, di, 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 augustus, ni, essi, un, fosoro, pa, ess, seng, ordo, traspasana, tempo, pa, e, fundasion, e, es, nang, ta, organiza, e, evento. Kem, bota, papi, un, cos, per ora, di, si, bu, notas, hierumang, anto, awe, bota, bina, ma, otro, ende, cobarde, ah, well, nos, notas, so, kete, nostas, trets, i, nostas, informa, i, nostas, recorda, mes, cos, cu, e, jesu, manut, cu, helmi, mas, no, il, si, feliz, memoria, atuma, pa, splica, ta, ken, ta, carlos, i, e, bota, e, sun, cu, ta, iba, carta, e, mensajero, cu, yama, americototei, te, te, inda, poeblo, di, corso, ta, guarda, e, carta, cu, boso, ta, contra, di, rapor, rosa, muller, cu, boso, leader, abaituma, la, rudia, te, ave, ta, guarda, e, carta, di, today, caminda, e, la, indica, que, ta, contra, di, instruccion, financiero, vergüenza, nunca, visto, lo, qual, si, el, asi, el, vota, pro, un, mozón, di, desaprobación, contra, di, su, mes, ministra, di, finanzas, ese, tu, hecho, histórico, de, nos, politica, na, corso, paso, den, pueblo, soberano, costan, de, vai, otro, den, pueblo, soberano, un, ministra, sina, nunca, lo, no, llega, de, situacion, caminda, le, un, mozón, di, desaprobación, o, se, le, le, en, aquí, dentro, antes, de, vai, casa, ese, ta, e, diferencia, que, men, ese, lo, qual, ta, trata, de, asunto, de, nan, espera, comita, clarito, ese, ta, trata, e, asunto, de, quem, po, llama, quem, e, quem, duna, quem, independencia, saludo, faforte sul barán, puto sul furator di arriba Facebook, urba calma Luigi dos Santos un picchi, e se itami consejo. pregúntalo, 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 mi, te prefera, para mi, cava, anteori, nosa, tumatura, pregúntala, si, bo, a, pampe, pregúntalo, 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 si, si, me, agregar, algo, na, e, ilegalidad, y, robin, den, su, oficina, tampouco, e, nota, usa, buki, di, loteria, corso, e, saca, papil, fu, di, computer, and, me, sa, conta, contra, quanto, ob, e, et, cobra, and, quanto, ganache, et, ha, se, que, ve, de, númer, su, computer, saca, pia, enta, por, se, bukina, poza, mi, amigo, colega, soberano, mi, te, quere, mi, te, convenci, cu, ti, algo, ende, ti, mala, suerte, actualmente, pa, sombra, sem, ta, ti, hende, cu, ta, go, with, the, flow, e, costa, bayendo, cine, popi, a, cava, el, ge, copay, no, ante, orite, ye, guende, cota, visa, ilegal, ilegal, anta, nos, ta, parri, anto, e, asunto, di, sms, venta, di, nummer, via, di, sms, da, dize, comienzo, dan, nos, lamentable, pa, opi, cota, nervioso, ahue, e, sum, cota, minesta, di, asunto, na, general, pa, lei, e, cota, regadar, loteria, ta, e, ta, responsable, pa, atender, o, incumplimento, di, lei, e, no, sa, non, stame, tan, altura, ca, ora, podrenta, un, localidad, nanta, sali, un, travo, combo, kere, legal, ap, ilegal, ku, ap, sin, obey, tam, es, kon, and, as, de, an, kompanija, kutabende, was, ma, china, zilandia, ante, cos, eta, ilegal, pero, nos, nota, encarga, ku, e, cartera, di, finanza, pa, so, si, non, os, la, tende, e, se, tambe, no, sta, atender, e, parti, di, incumplimento, di, lei, ku, te, rega, da, loteria, wega, di, nombra, i, e, praktika, ng, ilegal, e, tambe, tabay, para, lo, bin, un, aparato, di, kontrol, lo, me, se, reforza, es, ka, es, pa, kontrola, in, stingo, bay, adapt, ta, e, lei, kutahasi, mas, imeo, kontrol, posibol, anto, no, sa, ku, lo, bi, un, lo, abimento, fuerte, den, e, paiz, aki, pa, kita, i, bar, as, for, di, pwesto, di, minesta, di, asunto, nan, general, per, mita, convenci, pu, sosten, i, respaldo, total, di, poe, di, corzou, nos, lo, vence, qual, que, intento, pro, corrucchon, den, paiz, aki, i, cu, poe, lo, lo, jasi, manera, poe, lo, venezolano, a, jasi, subi, calla, i, defende, nan, promè, mandatario, no, sta, conta, fue, respaldo, aki, paizot, un, pausa, e, un, lucha, justo, no, sta, beza, cune, i, el, lucha, aki, tabai, demostra, un, da, corso, ta, parà, realmente, si, al, final, di, dia, no, sta, bisa, si, na, corrupsiom, na, ilegalidad, of, no, sta, bisa, nos, acepte, ta, parè, ni, posision, ta, bon, clara, a, min, nota, acepte, ni, ta, parè, palàbra, ta, na, poeblo, avore, un, parè, 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 asunto, cunosa, para, un plan nazionale per desarrollare un proietto che ha fatto a bincone per sombra che è stava la borsa gloria personal nel lugar dipone 700 mil florini di suo presupposto placa cutatei fondo nel 2012 e combine con 4 mil euro per il proietto del quadro di ampio il proietto social per seguire 2 anni ma avisa no e al lanta plan nazionale di barrio pone 1.2 che mi non ti 7000 pa un tu buone 4 mil euro pa costa n seguit cana va pone 1.2 mil riva presupuesto pa paga salario rur di di edificio rur di macchina di copia e tur otro asunto cutin nada di aver che che persona come stai udanza del barrio lujo lato che conosce così così prima ministra cutate qua uo abira leader ora non sapise para ecosei Anche solo per placa, per reddere social, che hanno tanto anni che stanno facendo il lavoro, non hanno più esperienza, sempre non aveva bisogno di fondi, non aveva due costi, due instanze, che stanno facendo il mesmo costo, che cada uno ha pagato il direttore, il diritto, etc. WIS, gastamento di placa e recurso per il plan nazionale di barri e manda il fondo nella reddere social, a trove e non a tra, e tra bo, e la sali papia, sin che la tra tra bo, e la sali un consejero, Io direi, chi me è pubblicamente, cosco nunca è consejero a chi lo tribidi ha si, baudi un ministro presidente, chi chiama ASSUS. Io direi, chi chiama ASSUS. Io direi, chiama ASSUS. iscrivo, chiama ASSUS. Chiama ASSUS. La nostra parra è il plan nazionale di barrio e la nostra sua Europa è 1.2.